Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del notiziario oggi dedicata alla vicenda legata alle bonifiche che dovrebbero essere avviate a Gela. Dopo l'interrogazione a firma del consigliere comunale indipendente Carmelo Casano, i dubbi della commissione consigliere permanente ambiente. Sentiamo. I dubbi sollevati e riferiti ieri ai nostri microfoni dal consigliere comunale indipendente Carmelo Casano su modi e soggetti che dovranno eseguire le bonifiche costituivano un'interrogazione a firma dello stesso componente dell'assise civica, regolarmente depositata e che aspettava chiarimenti da parte del primo cittadino Domenico Messinese. I dubbi iniziano a sorgere anche tra i membri della commissione ambiente e sanità preseduta da Virginia Farruggia e così la stessa commissione ha acquisito l'interrogazione proposta da Carmelo Casano. La commissione però va oltre. Il presidente e i componenti Salvatore Farruggia, Maria Pingo, Crocifisso Napolitano e Giuseppe Ventura vogliono valutare l'idoneità del contenuto dell'avviso pubblico lanciato da Confindustria Centro Sicilia e volto alla scelta delle aziende che potrebbero insediarsi nelle aree di smesse Eni. Non è chiaro chi debba pagare i costi di bonifica, ha spiegato il presidente Virginia Farruggia. Cercheremo di avere tutti i chiarimenti del caso, anche sul piano dei criteri di scelta delle società che volessero avviare progetti in quelle stesse aree. Un altro punto scuro sono le agevolazioni fiscali da concedere a chi si insedierà. Dovrà finanziare l'ente comunale, conclude Virginia Farruggia. Fratelli d'Italia continua il suo radicamento in Sicilia e a Gela, una delle città più importanti e popolose dell'isola, dove ha costituito una sezione e a breve verrà inaugurata la sede. Il portavoce provinciale di FDAN, Fabiano Lomonaco, ha ratificato la nomina di portavoce cittadino a Gaetano Minardi, un uomo che ha sempre militato a destra. Già consigliere provinciale e assessore, Minardi avrà il compito di riannodare il tessuto della destra in città raccogliendo le istanze del territorio. A Gela c'è bisogno di destra, ha spiegato il neoportavoce cittadino, di legalità, di principi e valori radicati. I Fratelli d'Italia rappresentano una fiammella di speranza per tutti i colori quali provengono da una storia politica che purtroppo si è dispersa in alcuni rivoli. Il partito conta molto sui giovani e sulla loro voglia di partecipazione, aggiunge Gaetano Minardi, e a breve inizieremo il tesseramento e inaugureremo la sede nel centro cittadino. Esprime particolare soddisfazione il portavoce provinciale del partito Fabiano Lomonaco. L'apertura di una sezione in una città dell'importanza di Gela è un bel segnale per tutto il partito. In Sicilia sono certo che Gaetano Minardi, con la sua esperienza e la sua passione, riuscirà a trasmettere entusiasmo e voglia di cambiamento. Gela ha un'importanza politica particolare, conclude Lomonaco, essendo la città del presidente della regione, Rosario Crocette. Ed è proprio da qui che bisogna iniziare a liberare la Sicilia dal gioco del peggior governo regionale degli ultimi vent'anni. Auguro buon lavoro a Gaetano Minardi, ha concluso Lomonaco. La situazione drammatica che sta vivendo il nostro territorio carica ancora più di responsabilità la nomina che con orgoglio ed entusiasmo ho accettato il 4 gennaio 2016. Lo scrive in una nota inviata alla stampa Bruno Antonuccio, neocoordinatore provinciale del nuovo PSI. La crisi occupazionale e il dramma ambientale sono oggi le priorità che una dirigenza politica seria deve affrontare, percorrendo l'unica strada possibile, cioè una visione complessiva di sviluppo. Oggi noi stiamo pagando la totale mancanza di capacità politica e amministrativa, di dignità e di coerenza di chi per anni ha governato il territorio nissene, in particolare quello gelese. Leggiamo nel documento, oggi il primo passo da compiere consiste in un ritorno alla coerenza e alla dignità, in primo luogo degli amministratori che dovrebbero essere riconosciuti come esempio positivo, come rappresentanti dei cittadini che lavorano per il bene comune e non per la propria carriera politica. Le risposte ai problemi attuali non possono che venire da un'analisi seria e obiettiva del lavoro degli amministratori che attribuisca non solo presunti meriti ma soprattutto responsabilità, in modo da trovare una soluzione ad un dramma che da occupazionale è diventato ormai sociale, conclude Bruno Antonuccio. Adesso ci occupiamo di sanità, è stato chiesto e ottenuto un vertice in prefettura previsto per lunedì prossimo per discutere dell'appaventata chiusura del punto nascita di Mussomeli. Insorgono i sindacati, sentiamo. L'allarme lanciato ormai da qualche giorno dalla CGL di Mussomeli in merito alle inopportune scelte operate dal governo regionale dentro la riforma sanitaria ha determinato un profondo malumore nella cittadinanza di Mussomeli e preoccupazione al personale medico e paramedico dello stesso storico presidio sanitario che tra l'altro gode di una vasta utenza proveniente anche dai paesi vicini. Lo scrive in un comunicato la segreteria confederale provinciale della CGL di Caltanissetta, congiuntamente alla categoria FP CGL di Caltanissetta, i quali hanno chiesto e ottenuto un vertice urgente presso la prefettura di Caltanissetta che ha indetto un tavolo con i sindaci del Vallone, il direttore dell'Asp e i sindacati per una verifica immediata operata in Sicilia e nello specifico gli effetti devastanti che la riforma rischia di avere in piccoli centri ma strategici. Tutto ciò appare ancora più grave in considerazione di scelte discriminatorie operata a distanza di pochi chilometri con analoghe caratteristiche geografiche delle province interessate, spiegano ancora i sindacati. La CGL è fermamente convinta che bisogna ridurre i costi della sanità pubblica, cioè gli sprechi e i doppioni, il resto è mortificazione per i cittadini. E' utile infatti ricordare che il comune di Mussomeli rientra nella classificazione di una zona montana e che presso il predetto punto nascita sono stati effettuati 204 parti nel 2014 e 165 parti fino a ottobre 2015, prestazioni che potrebbero verosimilmente aumentare per effetto della chiusura del punto nascita di Santo Stefano di Quisquinia. CGL ed FP CGL concludono. Ignazio Giudice e Giovanna Caruso sostengono le iniziative civili di lotta avviate a Mussomeli e sposteranno l'attenzione ai massimi livelli istituzionali per affrontare la questione con l'obiettivo di mantenere aperto il punto nascita di Mussomeli. Con proprio decreto il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, confermato come commissario straordinario all'ex provincia regionale, adesso libero consorzio comunale di Caltanissetta, Alessandra Diliberto, dirigente dell'amministrazione regionale in servizio presso la segreteria generale della presidenza della regione. Il funzionario era già stato nominato a questa carica lo scorso novembre, comandato fino al 31 dicembre al pari dei colleghi omologhi presso le altre ex province siciliane. Con questa nuova nomina dovrà espletare l'incarico fino al 30 giugno prossimo. La dottoressa Diliberto, a 49 anni, è laureata in giurisprudenza con specializzazione post laurea in diritto delle regioni e degli enti locali ed è dirigente regionale dal 1993. È già stata commissario straordinario in altre istituzioni dell'isola. È tornato ieri, dopo la pausa natalizia, il programma di approfondimento giornalistico Agora, ideato e condotto in studio da Franco Gallo. Vediamo. Un sindaco senza stelle è una città senza speranze. E così si spengono i sogni di rianimare Gela. La stessa politica che ha condannato a morte questo martoriato territorio ora prova a rifarsi una verginità grazie all'autolesionismo sfrenato di un movimento 5 stelle da premio Oscar per sceneggiature suicide. Il 2016 di Agora, il rotocalco settimanale di Canale 10, si è aperto con i tormenti che attannagliano Gela e che, come sempre, provengono dalla profonda insipienza e mediocrità della nostra politica locale, incapace di risolvere i problemi da essa stessa creati. La frattura insanabile tra l'aggiunta messinese ed il movimento grillino che lo ha sostenuto alle elezioni amministrative del maggio scorso stanno poi facendo il resto, riuscendo persino a riabilitare coloro che questa città hanno massacrato senza pietà. Ieri sera ad Agora se ne è parlato alla presenza delle due figure apicali dell'amministrazione comunale pentastellata o forse ex, ossia il sindaco Domenico Messinese ed il suo vice Simone Siciliano. Erano stati invitati anche, ma hanno declinato l'invito, due esponenti della base dei 5 stelle gelesi che si oppongono all'aggiunta messinese. Non hanno inteso alimentare le polemiche, hanno spiegato rifiutandosi di presenziare ad Agora, salvo poi andare disinvoltamente su Facebook e sugli altri social a dire peste e corna del sindaco e della sua giunta. Un modo davvero bizzarro, indubbiamente, per non fomentare lo scontro, ma anche e soprattutto questo è il metodo a 5 stelle. In studio, tra gli ospiti di Agora, anche il capogruppo consigliare del Partito Democratico, Vincenzo Cirignotta, ed il presidente della Commissione Bilancio, nonché consigliere comunale di Forza Italia, Salvatore Scerra. Ad arricchire come sempre i contenuti di Agora non è poi mancata la scheda firmata da Giulio Cordaro dal titolo fuori dal coro. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agora potrà farlo attraverso la replica integrale che andrà in onda domani sera alle ore 21 sui nostri teleschermi, oppure visitando i nostri indirizzi social, ossia il sito internet tg10.it o il profilo Facebook di Canale 10. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo, in prima serata, con nuovi ospiti ed argomenti che interessano Gela e Digelesi. Sono aperte le iscrizioni per i nuovi aspiranti volontari e pionieri della pubblica assistenza Procivis di Gela, diretta da Luca Cattuti. I volontari del soccorso si impegnano personalmente in un servizio di solidarietà per la propria comunità. Sono componenti attivi di una organizzazione, integrati in un sistema organizzato, quale è quello del soccorso sanitario e della protezione civile. Per maggiori informazioni sulle iscrizioni è possibile recarsi presso gli uffici di via Ossidiana al numero 23. Ogni giorno dalle 15.30 alle 20.30 oppure chiamare il numero 0933 93 83 12 o ancora inviare una mail all'indirizzo p.a.procivischiocciolatiscali.it sarà possibile iscriversi fino al 31 gennaio. Il corso di formazione pratica e teorico proseguirà poi per 18 mesi. Salviamo il salvabile è la commedia brillante che la compagnia Sipario 21 e l'associazione Demetra porteranno in scena sabato 16 gennaio prossimo alle ore 21 al Teatro Eschilo di Gela. La regia è affidata a Maurizio Nicastro. Continuano gli appuntamenti col grande jazz al Teatro Comunale Eschilo di Gela. Stasera andrà in scena Francesco Buzzurro. Venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21. Per informazioni rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20. Per informazioni 0933 911 892 oppure 345 58 80 580. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, e lasciate libero lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo il 13 gennaio con Sergio Vespertino. Continuano gli appuntamenti musicali inseriti nel programma Natale 2015-Capodanno 2016. organizzati dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela, preseduta dal maestro crocifisso Ragona. Domenica 10 gennaio prossimo alle 19.00, il recital del chitarrista Massimo Martinez. Dopo la pausa festiva con un nuovo formato riecco in edicola il Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità, politica, cultura e sport, diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro. Apertura rituale con l'editoriale di inizio anno del direttore che riflette sul grave momento di difficoltà che sta vivendo la città, le prese con la crisi forse più nera della sua storia contemporanea. In prima pagina i servizi improntati pressoché sugli stessi temi a firma di Filippo Guzzardi, Giulio Cordaro ed Elio Cultraro che emettono a nudo cause ed effetti di una crisi che è anche e forse soprattutto politica. Nello Lombardo fa reso conto dell'ultima movimentata seduta di Question Time dove sono emersi i primi segnali dell'immobilismo in cui potrebbe trovarsi il Consiglio Comunale da qui in avanti. All'interno altri servizi di attualità e cultura di Lucrezia Ferro, Gandolfo Cascio, Concetta Santagati e Nello Lombardo. E infine lo sport con i commenti di Orazio a comando sui campionati di calcio e di eccellenza e promozione. Chiude il giornale come di consueto la pagina degli annunci economici. Continueranno fino a domani le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio presso il piazzale della chiesa di San Rocco a Cantina Sociale, pattinaggio su ghiaccio, eventi, mostra di presepi e albero della vita. Si conclude la prima parte del nostro telegiornale. Linea alla regia per la pubblicità. Tra poco restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe prevista per il 19 marzo prossimo potranno recarsi presso la chiesa di Sant'Agostino per registrarsi. Lo comunicano i padri agostiniani. Un 2016 all'insegna della solidarietà per restituire un posto migliore alle famiglie bisognose della città. Inizia così il nuovo anno per l'associazione Sant'Agata con una donazione da parte dello Juventus Doc Club preseduta da Lillorizza che ha incontrato in sacrestia il parroco della chiesa Sant'Agata al collegio nonché presidente dell'omonima associazione per dare il suo contributo alla ristrutturazione dei locali antistanti la parrocchia del centro storico che serviranno per accogliere le famiglie indigenti della zona. Ogni anno noi mettiamo questo sorteggio tra tutti i soci del Club Juve Michelangelo Rambulla per sotto e dove togliendo le spese il ricavato e quello che resta lo diamo a favore di un'associazione, di una chiesa come abbiamo fatto tutti gli anni. Quest'anno siamo fieri e orgogliosi di averli dati e consegnati stamattina all'associazione Sant'Agata perché è un'associazione che lavora per il sociale e quindi a noi fa piacere che ci sia un'altra associazione come quella nostra senza scopo di lucro che opera sul sociale. C'è una grande gioia nel mio cuore per vedere che la società nissena e oggi per mezzo del Juventus Club c'è questa preoccupazione verso la nostra associazione e veramente questo viene come la provvedenza di Dio perché noi preghiamo tanto per questo. Come dicevo, grazie a Dio mai un bambino, una persona è uscita senza niente di qua e tutto questo esiste perché c'è la solidarietà delle persone di Caltanissietta, di cuore. E così voglio ringraziare tutti i miei volontari, a cominciare di Agata e di tutti quelli che lavorano con me qua nell'associazione e di maniera particolare a Juventus Club per questa donazione che per noi sarà di grande utilità, che Dio vi benedica, che veramente possiamo tutti noi pensare nel nostro prossimo perché Gesù ha fatto questo. Una vera e propria benedizione per le famiglie ma anche per i numerosi bambini che quotidianamente bussano alle nostre porte, ha commentato una delle volontarie dell'associazione Sant'Agata da più di un anno a servizio delle fasce deboli della città. Per noi è un augurio di un anno speciale perché credo che noi ci occupiamo dei bambini e non c'è cosa migliore di unire i bambini se non con lo sport perché qualsiasi disciplina sportiva aiuta la loro crescita. E adesso parliamo di sport, c'è il calcio, sentiamo. Ripetere lo splendido avvio di 2016, Gela ed Atletico Gela domani saranno nuovamente in campo dopo i pacchi dono da tre punti trovati nella calza della Befana. In eccellenza la squadra maggiore cittadina torna a giocare al Vincenzo Presti per ospitare quella folgore selinunte che all'andata inflisse la prima sconfitta stagionale al team caro al presidente Angelo Tuccio. Reduce dal brillante e convincente 3-0 di Raffadali, il Gela di mister Totò Brucculeri tenterà di allungare la serie di vittorie consecutive che dura oramai da tre turni per continuare a dare la caccia alla capolista sancataldese domani di scena a Mussomeli in un delicato derby nisseno e che al momento vanta appena un punto di vantaggio sul Gela. Senza lo squalificato capitano Bonaffini e col dubbio sul recupero del difensore centrale Russello mentre sarà ancora out il centrocampista a tre piedi, quello che scenderà in campo contro la folgore di selinunte sarà un Gela lanciatissimo e oramai proiettato verso il salto diretto in serie D. Sarebbe il quinto balzo in avanti di fila per il Delfino Biancoazzurro sempre più protagonista del calcio dilettantistico siciliano. Appuntamento dunque domani a partire dalle ore 15 allo stadio di Vieniscemi per un succoso Gela-Folgore-Selinunte. In promozione viaggerà invece l'Atletico Gela che si reca a Santa Croce e Camerina dove troverà una squadra in grande risalita e che ha tratto forte spinta negli ultimi tempi da quando è arrivato nel team Ibleo l'attaccante gelese Peppe Domicoli, tra l'altro ex proprio dell'Atletico Gela. I giallorossi di Mister Misiti sono in corsa per i primissimi posti della classifica e non possono certo permettersi di fermarsi giusto ora. Anche perché Capitano Davideace e compagni vincendo a Santa Croce e Camerina potrebbero approfittare del big match tra le prime due della classe che domani vedrà di fronte al Dino Liotta, Licata e Nissa. Il macchitella Gela di Mister Mirko Fausciana si appresta ad ospitare il fanalino di Coda Comiso. Ferma a quota 9 punti allo stadio Vincenzo Presti. Gli aquilotti sono tornati da Casteltermini con nuove certezze, 3 gol e 3 punti. La prova di Caruso e in generale di tutto il reparto arretrato fanno ben sperare per il rush finale di questa complessa stagione 2015-2016 di promozione. Biancorossi dopo 16 giornate si attestano a 16 punti e dopo l'ultima gara guardano più sereni al futuro, futuro che potrebbe essere ancora più rosio battendo la squadra ragusana in casa, compito non impossibile. Siamo allo spettacolo Piccolo Grande Varietà e lo spettacolo Contuccio Musumeci che andrà in scena al Teatro Eschilo di Gela oggi alle 21.30 e domani alle 17.30. Il botteghino rimarrà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. Per informazioni 0 933 911 892 oppure 345 5880 580. E infine l'informazione cinematografica uno per tutti e il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella. Sono questi gli orari di rotazione della pellicola. Ve li ricordiamo. 17.30, 19.30 e 21.30. Con il cinema è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui. A tutti voi un buon fine settimana. Vi ricordo che notizie, servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale.